Siamo qui con il capitano Sebagile per festeggiare un'altra vittoria, l'undicesima di questa stagione, la settima di fila dopo la sconfitta, proprio contro la Rona in casa. Vincevamo il campionato, capitano. Sì, abbiamo vinto il campionato. È bello perché dopo la soddisfazione di salire di categoria mancava un pezzo, si vedeva nelle facce, si vedeva che salire non era abbastanza, dovevamo vincere, siamo venuti contro il caldo, la trasferta, giocare a giugno non è semplice, giocare contro loro che secondo me sono belli da vedere, sono una bella squadra, non era facile, quindi vittoria doppia. Vittoria doppia, un rapidissimo commento alla gara e ti lasciamo andare a fare la doccia. È stata una partita tesa, secondo me più bella rispetto all'andata, è stata più vodevole, piacevole da giocare e penso anche da vedere. Loro sono stati attaccati tutta la partita, sapevamo che è della loro forza sia tecnica che mentale e poi nel momento decisivo non sono tremate le gambe, siamo riusciti a piazzare l'allungo decisivo. Possiamo dire che le tre triple in fila, Scalzo, Gile ed Arrigo hanno messo un po' il sigillo. Sì, sì, anche perché arriviamo da, mi sembra, pochissimi tiri liberi da poco prima, quindi dovevamo farci perdonare. E diciamo che vi siete fatti perdonare nel migliore dei modi. Capitano, grazie mille, come sempre, amici teleascoltatori, Leopardi. Ride.